Musica Furto alla dribbling di maglie Trovati inspiegabilmente quattro colpi di pistola nel muro Provincia e Asli insieme contro la dipendenza da gioco Lecce al Marassi per fare risultato Cari amici di Eccinus24 ben ritrovati Hanno sfondato la vetrina con l'auto del negozio dribbling di maglie E sono scappati con un ingente bottino Per noi Mirian Gabellone Un altro colpo è stato messo a segno nel centro di maglie Pochi giorni fa è stato preso di mira e svaliggiato il negozio Contra Questa notte i gnoti hanno puntato il negozio di articoli sportivi dribbling in via Vittorio Veneto Era notte inoltrata circa le due e un quarto Quando hanno fatto eruzione all'interno del negozio Non scassinando la porta principale ma sfondando direttamente la vetrina con la propa autovettura Una volta all'interno si sono impossessati dei vari capi di abbigliamento sportivo Per un valore di circa 10.000 euro Stessa dinamica dell'assalto avvenuto nel negozio di via Roma Due episodi analoghi che potrebbero ricondurre alle stesse persone Ciò non si esclude Al momento l'unica certezza è che ad agire siano state tre persone Riprese dal sistema di videosorveglianza al circuito chiuso Anche se non sarà semplice risalire alla loro identità In quanto i tre hanno agito a viso scoperto come prevedibile Ora tutto il materiale ripreso è finito nelle mani dei carabinieri della compagnia di maglie Che stanno indagando al fine di rintracciare gli autori del furto La Guardia di Finanza ha scoperto un imprenditore edile del Basso Salento Che ha evaso pensate ben oltre 400.000 euro Vediamo il servizio Ha occultato tutta la documentazione contabile al fine di impedire la ricostruzione del volume d'affari Per quattro anni non ha dichiarato eredite Vedendo così 400.000 euro nonché 25.000 euro di IVA Nel 2010 aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'impresa Ma in realtà ha continuato a lavorare effettuando lavori edili Per conto di un'azienda del Nord Italia che emetteva a regolare fattura I finanziari del Comando Provinciale attraverso la disamina della documentazione Trovata in possesso dell'imprenditore E dopo aver eseguito relativi riscontri incrociati con i clienti Sono riusciti a ricostruire reale volume di ricavi conseguiti nel periodo ispezionato L'imprenditore è stato deferito all'autorità giudiziaria per ipotesi di reato E di occultamento di istruzione e di scritture contabili Ed è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle relative imposte Ci spostiamo ora a Surbo dove i carabinieri sono stati chiamati Per intervenire nell'abitazione di una commerciante 47enne del posto Poco prima del scoccare della mezzanotte i gnoti avevano esploso 4 colpi di pistola I militari infatti allertati proprio dalla telefonata al 112 della donna Hanno rivenuto conficcati nel muro 4 bossoli calibro 9x21 e 4 proiettili Vista l'ora la donna e il convivente erano a letto Quando il silenzio della notte è stato squarciato dai colpi di pistola Al momento non ci sono elementi per poter comprendere le ragioni del gesso Ed è stato firmato in mattinata il protocollo del progetto Scommettiamo che smetti punta sul futuro promosso dalla provincia e dall'AS di Lecce Per noi Mirian Gabellone Scommetti Sul calore della famiglia Forza motrice del mondo Sulla forza di un sorriso Che cambia in meglio le giornate Scommetti Sul potere di un abbraccio Dà coraggio a chi ha smesso di sperare Scommetti sul raggio di sole Sulla bellezza dell'amore Sullo splendore della vita Scommetti su te stesso E basta Una campagna di sensibilizzazione è il primo passo da compiere Per far comprendere la gravità e l'entità di un problema ormai molto diffuso Quello relativo al gioco d'azzardo patologico E poi al via una serie di interventi specifici per prevenirlo e curarlo Spesso i dipendenti da gioco e le famiglie vittime del fenomeno Non sanno a chi rivolgersi per chiedere aiuto E dove trovare proposte utili per uscire dalla grave crisi Non solo economica ma anche familiari che vivono a causa del gioco d'azzardo Da qui la firma di un importante protocollo d'intesa tra provincia e asla di Lecce Che si impegneranno a derogare un servizio di sostegno Rivolto ai giocatori patologici che intendono combattere la dipendenza Soddisfatti del risultato raggiunto Ottenuto anche attraverso l'azione continua e significativa delle forze dell'ordine Guardia di finanza e carabinieri in stretta sinergia Ai nostri microfoni il presidente Gabellone e il comandante Vezzoli Noi vogliamo monitorare e capire di che entità con esattezza e con predecisione ha il problema Svolgere delle azioni di sensibilizzazione E naturalmente offrire supporto attraverso il centro risorse per la famiglia Con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione Senza evidentemente tenere in conto che un'azione di coordinamento molto forte Può essere fatta con i piani di zona e quindi con le singole municipalità Il fenomeno è presente a livello nazionale E indubbiamente non meno che da altre parti del territorio italiano Anche nel Salento vi è gioco d'azzardo Ma mi permetto di rappresentare che dobbiamo essere fiduciosi In ordine al fatto che lo stesso non divenga una emergenzialità Perché le misure preventive e repressive Come testimoniano risultati che voi organi di informazione avete ampiamente divulgato Indicano quanto sia presente la nostra azione Di quanto sia qualificata e quantitativamente rilevante la presenza delle forze dell'ordine E sempre da Palazzo Dorno nell'ambito di Lecce, capitale del weekend È stata presentata la mostra fotografica che mette in sequenza tutti i set cinematografici Che hanno riguardato la Puglia Dai film degli anni 50 ai più recenti lavori di Cristina Comencini e di Linea Wirtmuller Passando per le opere di Carmelo Bene e dei fratelli Taviani Le campagne della Murgia, le coste del Salento e le architetture rupestre e monumenti barocchi Sembrano essere sette privilegiati da registi e sceneggiatori Non a caso si registra una presenza sempre più incisiva nella nostra regione Di artisti e cineasti impegnati in nuove lavorazioni televisive e cinematografiche Da oggi e fino al 30 giugno la Galleria dei Tietini ospiterà 80 immagini tratte dalle pellicole dei film più significativi girati in Puglia Un'idea progettuale di Alessandra Pizzi nata nel 2002 Quando ancora concetti come brand o marketing territoriale abbinati al prodotto cinema Erano ignorati o semplicemente lontani L'idea pian piano ha preso forma e oggi la mostra Puglia Immagini Downset apre ufficialmente i battenti Iniziative artistiche, teatrali, culturali e cinematografiche Il tutto rientra nel grande progetto Lecce Capitale dei Weekend Grazie al quale si registra un boom di presenze turistiche in città Sicuramente oggi abbinare cinema e turismo al territorio Chiaramente significa dare maggiore opportunità di conoscenza Oggi il viaggiatore ha necessità di conoscere la storia, le tradizioni E quindi ecco, vedere le immagini in una fiction o in un film lo incuriosisce E chiaramente viene spinto a venire a visitare il luogo Ecco, questa è una delle motivazioni per cui sicuramente con questa mostra Noi vogliamo non soltanto far vedere quello che è già stato fatto nel nostro territorio Ma fare in modo che le produzioni cinematografici possano crescere sempre di più In questa nostra straordinaria terra E quindi far conoscere e apprezzare sempre di più il nostro territorio ai tantissimi turisti E della provincia ci spostiamo ora in comune È attivo già da qualche giorno un numero verde che mette direttamente in contatto i cittadini Con la rumpia e servizi In questo modo potrete direttamente comunicare eventuali manutenzioni stradali O del verde pubblico da effettuare Vediamo Adotta le strade il verde di Lecce La campagna lanciata oggi dall'amministrazione comunale È infatti già attivo un numero verde L'814 4905 Che permette ai cittadini leccesi Di comunicare eventuali manutenzioni al manto stradale O al verde pubblico Sulla scia di un servizio che già anni fa Era stato sperimentato dalla società partecipata del comune Dillo alla Lupie E che ha riscosso un notevole successo Ha confermato il dirigente della società stessa Pietro Scrimieri La novità sta nel feedback, nella risposta In seguito alla segnalazione e all'intervento Gli addetti provvederanno a chiamare direttamente colui che ha fatto la segnalazione Per comunicare l'avvenuto intervento Un circuito dunque che parte dal cittadino E che finisce col cittadino stesso Non sono mancati dei momenti dedicati al consigliere Carlo Benincasa Ribadisco che abbiamo tenuto questa conferenza stampa In un momento molto particolare e sentito Che è la morte dell'amico Benincasa A cui va il ricordo mio più bello Ma l'abbiamo fatta per una semplice comunicazione di servizio Sottolineato l'assessore Gaetano Messuti Si dà la possibilità al cittadino di segnalare I problemi e anomalie che sono riferite al manto stradale e al verde pubblico Di gestire tramite la Lupe questi contatti Di renderli immediatamente operativi Di modo che si dà la possibilità di sanare le situazioni di difficoltà Che esistono sul manto stradale e nel verde pubblico E creare giustamente quel rapporto di fidelizzazione Tra il cittadino e la Lupe che ha fatto l'intervento In relazione anche all'intervento fatto Diventare guardiano emotivo di quell'intervento E di tutto ciò che attiene agli interventi Che sono riferiti agli atti di denuncia che verranno fatti Avete detto in conferenza verranno abbattuti alcuni passaggi burocratici Sì, noi vogliamo snellire sempre di più l'intervento E la efficacia, realizzare una maggiore efficacia degli interventi Quindi il cittadino ci chiama Noi segnaliamo subito alla squadra operativa Che c'è l'esigenza di fare quell'intervento E, dicevamo prima, cosa cambia? Cambia essenzialmente che noi Abbiamo intenzione poi di comunicare al cittadino L'effettivo termine dell'intervento Cioè che la segnalazione è data a buon fine E quindi che è stato effettuato E' stato ripristinato quel problema E prima di lasciarvi per la pubblicità Vi ricordiamo che alle 14 presso il Comune di Lecce Sarà allestita la Camera Ardente Per l'ultimo saluto al Consigliere Benincasa Bartoni, cucine e living Distinguersi con stile Scegliendo la qualità del Made in Italy Al miglior prezzo Cucine e aria giorno Statale 101 Lecce Gallipoli Zona industriale Lequile Telefono 0832 26 30 35 Bartoni, cucine e living Il Made in Italy al prezzo migliore Come sempre concludiamo con lo sport Il Genoa vale molto più dei punti che ha in classifica Questo è il commento di mister De Canio A poche ore dal match Genoa-Lecce Andrea Franchini Manca poco ormai al fischio d'inizio di Genoa-Lecce Match delicatissimo per i giallorossi impegnati nella lotta salvezza I grifoni non hanno niente da chiedere Un campionato disputato un po' in sordina Ma sicuramente non prenderanno sotto gamba l'incontro A tal proposito basta pensare a quanto successo Nello scorso weekend Quando al Ferraris è arrivato un Brescia A caccia di punti Sconfitto invece con un rotondo 3-0 Dei padroni di casa Il Genoa è una squadra forte Vale molto di più dei punti che ha in classifica In questo senso anche il mio Lecce è un esempio eclatante Perché la nostra classifica non rispecchia quello che abbiamo prodotto Abbiamo dimostrato in tante circostanze di giocare per vincere E qualche volta ci siamo anche riusciti E continueremo così anche in queste ultime 5 gare Un pareggio sarebbe un buon risultato domani? Dipende da come lo ottieni Sarebbe un risultato positivo su un campo difficile E se lo ottenessimo attraverso una buona gara Cioè cercando sempre di ottenere il massimo risultato in maniera razionale Sarebbe ben accetto Queste le parole di mister De Canio alla vigilia del match Ammarassi fischierà il signor Carmine Russo di Nola Anche per oggi è tutto Buona giornata